In manette prete pedofilo, Don Felice Larosa, già sacerdote a Zungri nel Vibonese, è stato arrestato dalla squadra mobile insieme ad altre due persone. Secondo l'accusa avrebbe avuto rapporti sessuali con minorenni dietro il pagamento di piccole somme di denaro, indagini partite da un omicidio avvenuto un anno fa. Boss ucciso in Australia, esecuzione a colpi di pistola, la vittima è Pasquale Barbaro, 35 anni, sotto processo per traffico di droga. Il giovane esponente andranghetista potrebbe aver pagato la sua decisione di essere divenuto informatore della polizia. Suo nonno fu assassinato nel 1990. Reggio avrà la sua metro. La regione ha stanziato 100 milioni di euro, le risorse sono state reperite all'interno del fondo PAC 2014-2020. Oliverio, l'opera completa il sistema delle metropolitane calabresi, soddisfatto il sindaco Falco Matà. Un calabrese tra i nuovi cavalieri del lavoro. Si tratta dell'imprenditore di Limbadi, Giorgio Nicola Pino. Lasciò la Calabria per insediare il suo stabilimento industriale a Torino. Una vita dedicata alla produzione di componentistica per auto. Adesso l'importante riconoscimento della Presidenza della Repubblica insieme con altre personalità che hanno dato lustro al paese. Numeri da retrocessione. In allarme i tifosi di Regina e Catanzaro. Nelle ultime quattro partite nessuno ha fatto peggio delle due calabresi. In riva allo stretto si guarda al mercato. Sui tre colli la rivoluzione è già iniziata. Buonasera da Rossella Galati. Benvenuti all'edizione della sera di Laci News 24. Apriamo, come avete sentito, con la cronaca. Tre persone sono state arrestate dalla squadra mobile di Vibo Valencia per i reati di prostituzione e corruzione minorile. Tra loro c'è anche un sacerdote, Don Felice La Rosa. L'operazione è partita dalle intercettazioni telefoniche disposte dopo un omicidio compiuto nel dicembre dello scorso anno. I fatti si sarebbero verificati tra Vibo, Mileto e Briatico. Accertate prestazioni sessuali in cambio della dazione di 50 euro a 15 anni stranieri. Un'inchiesta che prende una piega in attesa. Si tratta delle indagini coordinate dalla DDA di Catanzaro sulla morte di Francesco Fiorillo ucciso il 16 dicembre del 2015 in un agguato a Lungobardi nei pressi della stazione ferroviaria di Vibo Pizzo. In alcune intercettazioni telefoniche relative al delitto gli inquirenti si sono imbattuti, in alcune conversazioni sospette riguardanti un torbido scambio di soldi per sesso. La trattativa è in mano a un cittadino bulgaro che propone le prestazioni di un connazionale 15enne ad altri due uomini, un pensionato e un prete. I tre sono finiti in manette stamani arrestati dalla squadra mobile di Vibo Valencia nell'ambito dell'operazione denominata Settimo Cerchio. Nella scabrosa vicenda spicca il ruolo di Don Felice La Rosa per 12 anni parroco di Zungri, piccolo comune del Vibonese. Il sacerdote avrebbe mercanteggiato per 50 euro a incontro alle prestazioni del 15enne. Le indagini eseguite con il coordinamento del procuratore capo Nicola Gratteri, dell'aggiunto Vincenzo Luberto e del sostituto Deborah Rizza hanno permesso di accertare che il cittadino bulgaro avrebbe coinvolto nel cerchio di prostituzione anche altri minori. Gli incontri si sarebbero svolti tra Vibo Valencia, Mileto e Briatico. Loredana Colloca per la CNews 24. E non si è fatto attendere il provvedimento del Vescovo di Mileto, Monsignor Luigi Renzo, che ha sospeso a Divinis Don Felice La Rosa, accusato quindi di sfruttamento della prostituzione minorile e corruzione di minore. È gravissima l'accusa che pende sul capo di Don Felice La Rosa, arrestato nelle scorse ore perché sospettato di sfruttamento della prostituzione minorile e corruzione di minore. Una notizia che ha sconvolto tutta la comunità cristiana di Zungri, dove il prete originario di San Calogero esercitava. E non poteva restare in silenzio il Vescovo della Diocesi di Mileto Nicotera Tropea, Monsignor Luigi Renzo, che ha sospeso a Divinis il sacerdote. Si affida una nota stampa, il presule, che esprime rammarico e dolore per i gravi fatti contestati a Don Felice, riponendo piena fiducia nella magistratura perché i fatti siano acclarati nella giusta dimensione e dichiara la sua piena disponibilità e collaborazione. Monsignor Luigi Renzo invita paternamente la comunità ecclesiale diocesana, ferita dalla notizia, alla preghiera per le persone coinvolte, in primo luogo per le vittime minorenni, cui esprime vicinanza e solidarietà, e per il sacerdote stesso. Esorta infine la comunità diocesana a rimanere salda nella fede, consapevole che solo un cammino di grazie e santità può vincere il male. Cristina Iannuzzi per la CNews24. Ancora un'esecuzione di puro stile mafioso in Australia, nella guerra tra bande per il controllo del mercato della droga, che vede tra i protagonisti una consolidata ramificazione dell'andrangheta calabrese. Pasquale Barbaro, di 35 anni, è stato ucciso la scorsa notte a Sydney con numerosi colpi mentre usciva dalla casa di un suo associato da due uomini incappucciati e subito fuggiti. Secondo il giornalista giudiziario Kate Moore, vi sono sospetti che Barbaro fosse diventato un informatore della polizia. Il sospetto ha detto che sia stato ucciso per aver violato il codice di omertà, come è successo con suo nonno nel 1990. Sentiamo. Un'esecuzione in piena regola, vittima il 35enne Pasquale Barbaro, membro di spicco dell'omonima cosca, sorpreso da una pioggia di piombo mentre usciva dalla casa di uno dei suoi gregari. Un omicidio di indrangheta avvenuto dall'altra parte del mondo, in un soborgo di Sydney, messo in atto da killer incappucciati, che si sono allontanati subito dopo aver sparato. L'omicidio sarebbe avvenuto nell'ambito di una guerra tra bande per la supremazia sul mercato degli stupefacenti nella sconfinata piazza australiana. In particolare il giorno dopo il delitto, si sarebbe celebrato un'udienza del processo nella quale era previsto l'esame di alcune conversazioni tra il boss di origine calabresi e il capo di una sanguinaria banda libanese, i Brothers for Life. Pasquale Barbaro, libero su cauzione in attesa di giudizio della corte distrettuale di Sydney, perché coinvolto in un giro di spaccio, era stato bersaglio lo scorso anno ed un analogo agguato dal quale però era uscito indenne. portava lo stesso nome del nonno, ucciso nel 1990 in un'imboscata. Loredana Colloca per la G News 24. Una mitraglietta Uzi clandestina completa di caricatore con 32 colpi, tre pistole semiautomatiche e due revolver e l'arsenale scovato in un immobile di Lamezia Terme dai carabinieri della locale compagnia che hanno arrestato Saverio Torcasio di 30 anni e Pasquale Caligiuri di 29, con l'accusa di detenzione abusiva di armi clandestine e comuni da sparo e di munizionamento, ricettazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I militari, dopo aver notato i due mentre stavano entrando in un locale, li hanno seguiti e bloccati decidendo di ispezionare il locale, risultato essere lo studio tecnico di Torcasio. L'attenzione dei carabinieri è stata attirata da una botola che, una volta aperta, ha consentito di trovare le armi all'interno di un borsone di tela. Tutte in perfetto stato di conservazione, le armi saranno sottoposte ad accertamenti balistici. Nel nascondiglio, con sistema di allarme, c'erano quasi due chili di marijuana e più di un chilo tra cocaina ed eroina. Cambiamo argomento. L'Aggiunta regionale ha stanziato 100 milioni di euro per la realizzazione della metropolitana di Reggio Calabria. Il presidente Oliverio dice è intervento fortemente innovativo nelle tecnologie. Nei prossimi giorni, la firma del protocollo tra la Regione e il Comune di Reggio Calabria per l'avvio dell'opera. Anche Reggio avrà la sua metropolitana. Lo ha stabilito l'Aggiunta regionale, che ha deciso di stanziare 100 milioni di euro nell'ambito della programmazione del PAC 2014-2020 per la realizzazione dell'importante opera che potrebbe ridisegnare la mobilità nella città dello stretto. Si completa così, ha dichiarato il governatore Mario Oliverio, il quadro di programmazione del sistema regionale delle metropolitane. Anche Reggio, dopo Cosenza e Catanzaro, potrà dare corso all'iter realizzativo di un grande progetto di mobilità urbana. Si tratta, ha spiegato il governatore, di un intervento fortemente innovativo nelle tecnologie e di grande impatto positivo sull'ambiente che potrà dare importante impulso allo sviluppo più complessivo della città. Nelle prossime settimane si procederà alla sottoscrizione di un apposito protocollo tra la Regione e il Comune al fine di accelerare le procedure per la realizzazione dell'opera. Soddisfatti gli amministratori reggini, il Presidente del Consiglio, Nicola Irto, ha sottolineato come lo stanziamento consentirà di migliorare i trasporti introducendo una rivoluzione nella mobilità urbana che porterà a un nuovo modo di vivere la città, mentre il Sindaco Falcomatà ha indicato come fondamentale la sinergia instaurata con il Governo regionale che dovrebbe portare in città anche ulteriori risorse per i settori dell'inclusione sociale e dell'edilizia scolastica con fondi da reperire all'interno del POR. Riccardo Tripepi per la CNews24. Ed ora una notizia di poco fa, un autocarro in fiamme all'interno della Galleria Costa Viola. Come vedete ha provocato il blocco del traffico lungo la A3 in direzione nord tra gli svincoli di Santa Trada e Scilla in provincia di Reggio Calabria. Non ancora note le cause che hanno provocato l'incendio che pare si sia propagato anche su altri veicoli presenti in galleria. Immediato l'intervento del personale di ANAS, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine allo scopo di ripristinare la regolare viabilità. E cambiamo argomento, torniamo a parlare del referendum costituzionale. La sala giunta della provincia di Catanzaro ha ospitato l'attivo provinciale del PD alla presenza del segretario regionale Ernesto Magorno che è intervenuto spiegando tra le altre cose le ragioni del sì in vista appunto del referendum del 4 dicembre. Se dovesse passare il sì, ha detto Magorno, non ci sarebbero più cittadini di serie A e cittadini di serie B. Ascoltiamolo. Bisogna far capire ai cittadini del nostro paese, soprattutto alla gente del Mezzogiorno, della nostra regione, che il sì propone, come dire, la riscossa del Mezzogiorno e della Calabria. Basta immaginare la riforma del titolo quinto della Costituzione. Alcune materie che sono di competenza oggi delle regioni, l'energia, il turismo, la sanità, i trasporti, diventano invece prerogativa del Governo nazionale. Se dovesse passare il sì, queste materie diventano materie del Governo nazionale ed è evidente che non ci saranno più cittadini di serie A e cittadini di serie B, ma ci saranno cittadini italiani e lo Stato dovrà pensare ai propri cittadini immaginando che la sanità è una sanità che deve essere la stessa da Milano a Torino o da Torino a Cosenza e che un varmaco che oggi se costa 20 euro a Milano, per esempio un varmaco a salvavita, non può invece costare 40 in Galabria. Il voto al sì o al no non è un voto sì o no per il nostro Governo o per il nostro Premier, ma è un voto sì o no per una profonda riforma della nostra Costituzione che non riguarda i principi valoriali, cioè i primi 12 articoli della nostra Costituzione, ma che riguarda invece alcune modifiche che già il Costituente in origine aveva previsto che potevano essere fatte. Ma questa del titolo quinto mi sembra per il Mezzogiorno d'Italia un tema centrale. Rossella Galati per la Cineus 24 Restiamo a Catanzaro, ma cambiamo ancora argomento. Il nuovo terrorismo islamico dall'11 settembre all'Isis. E' questo il titolo del libro di Roberto Coppola che è stato presentato appunto nel capoluogo di regione presso il Palazzo della Provincia nell'ambito dell'incontro il terrorismo islamico, legislazione italiana ed europea. All'evento ha preso parte anche il professore Ferdinando Imposimato, tra le altre cose, esperto di terrorismo internazionale che ne ha curato la prefazione. Sentiamo. Ho letto con estremo interesse il libro di Roberto Coppola Il nuovo terrorismo islamico e mi compiaccio con il dottor Coppola ma anche con la casa editrice che ho avuto il coraggio di fare un libro che certamente non provoca grandi sussulti emotivi ma che è molto importante per cercare di capire quale fase stiamo vivendo. Il libro descrive magnificamente le varie realtà del terrorismo islamico. Ci sono tante forme di terrorismo islamico. Ci sono i sunniti, gli sceniti, c'è Boko Haram, Al-Qaeda. Ci sono quelli dell'Isis. Il dottor Coppola ha avuto l'umiltà di dire che non siamo riusciti a dare una nozione di terrorismo che sia unanimamente accolta in tutto il mondo e questo complica le cose perché gli stati non collaborano se non ritengono che un attentato sia stato fatto da terroristi. Io credo che questa analisi, questa investigazione fatta da Roberto Coppola debba essere completata e aggiornata. anche se comprende l'analisi di tutti i fatti gravi che sono stati commessi come quelli di Charlie Hebdo come quelli del Bataclan non spinge verso una repressione cieca e ottusa ma vuole una repressione mirata lotto al terrorismo che non significa lotto all'Islam. Rossella Galati per la Cineus 24 Dal Vibonese a Torino con la classica valigia di cartone poi la sua personale scalata lo porta ai vertici di uno dei principali gruppi italiani nella produzione di componentistica per auto. Stiamo parlando di Giorgio Nicola Pino l'imprenditore originario di Limbadi a cui il Presidente della Repubblica ha conferito il titolo di Cavaliere del Lavoro. Tra i 25 nuovi cavalieri del lavoro nominati recentemente dal Presidente della Repubblica c'è anche Giorgio Nicola Pino 68 anni residente a Caserta ma nativo di Limbadi è nel piccolo paese del Vibonese che l'imprenditore vive i suoi primi anni di vita frequenta l'Istituto Tecnico Industriale di Vibo Valencia terminati gli studi si trasferisce a Torino dove lavora per il gruppo Fiat ma i panni dell'operaio gli stanno stretti e così quando la società decide di creare una succursale a Caserta passa alla programmazione l'anno della svolta è il 1980 quando costituisce la società STL con soli 5 dipendenti ed un capitale di 20 milioni di lire qualche tempo dopo fonda un'altra società la Proma SPA a Caserta nel 2009 rileva la ex Tibermec di Umbertide oggi è uno dei principali gruppi italiani della componentistica auto con 2.500 addetti e 20 stabilimenti produttivi 13 in Italia e 7 all'estero in 10 paesi e 5 continenti e con un fatturato consolidato di più di 400 milioni di euro con il fiore all'occhiello per l'innovazione con due centri ricerca e sviluppo un esempio di tenace e orgoglio per i limbadesi che gli hanno conferito la cittadinanza onoraria ancora prima che il presidente Mattarella lo nominasse Cavaliere del Lavoro Cristina Iannuzzi per l'AC News 24 Ed è terminata la corsa della città di Cosenza al titolo di Capitale della Cultura 2018 intanto il Ministero dei Beni Culturali ha chiesto alla soprintendenza di non sostenere la ricerca del tesoro di Alarico ascoltiamo Se fosse una partita di calcio il risultato sarebbe 2 a 0 in favore di Dario Franceschini il ministro prima ha bocciato gli scavi archeologici per la ricerca del tesoro di Alarico attraverso una nota della Direzione Generale del Ministero dei Beni Culturali in cui si chiede alla soprintendenza di sospendere gli effetti del protocollo di intesa sottoscritto in tal senso con l'amministrazione comunale poi ha escluso Cosenza dalla corsa al titolo di Capitale Italiana della Cultura 2018 per carità in queste vicende il ministro centra poco o nulla ma gli effetti delle determinazioni che giungono dai suoi uffici non cambiano in meno di 24 ore le ambizioni del sindaco occhiuto vengono repentinamente ridimensionate il primo cittadino la prende con filosofia eravamo in possesso di tutti i requisiti necessari per arrivare fino in fondo il vento di certa politica dominante non c'è stato favorevole ha dichiarato a caldo preannunciando di voler proseguire nel solco del lavoro svolto per una offerta culturale di qualità per quanto concerne la vicenda di Alarico Chiuto ha preso carta e penna per ribadire al ministro l'importanza di procedere nelle ricerche del mitico tesoro tanto più che se verrà alla luce sarà di proprietà dello Stato Salvatore Bruno per la Cineus 24 i valori dell'integrazione e dell'accoglienza spiegati ai bambini delle scuole elementari l'iniziativa si è svolta nel Cosentino precisamente a Montalto Ufugo vediamo i dettagli nel nostro servizio le note di aggiungi un posto a tavola per introdurre un dibattito sull'integrazione con l'obiettivo di trasmettere ai bambini i valori della multiculturalità e della tolleranza su iniziativa di Pino De Munno e Rosanna Chiappetta dell'associazione Flashdance l'incontro si è svolto nell'istituto comprensivo di Montalto Ufugo diretto da Maria Franca Faragasso con la partecipazione dell'arcivescovo di Cosenza Bisignano Monsignor Francesco Nolè del prefetto Gianfranco Tomano del presidente della Croce Rossa Antonio Schettini e di Gianfranco San Germano in rappresentanza del movimento Cooperazione Internazionale ai lavori moderati da Fiorenza Gonzales ha preso parte anche il direttore della CIPA Scuole Motta l'integrazione sociale come un modello di insegnamento per abbattere le barriere e investire nell'accoglienza avevamo pensato di lanciare un messaggio proprio nelle scuole elementari proprio un messaggio ai bambini parlando in modo fluido in modo semplice e con personalità che tutti i giorni trattano queste problematiche Le politiche di integrazione sociale devono essere poste all'attenzione proprio per far sì che si possa parlare effettivamente di integrazione di solidarietà e anche di accoglienza per quanto riguarda i migranti che sempre più numerose giungono nel nostro territorio da Cosenza per la Cineus 24 E sui temi dell'integrazione abbiamo raccolto anche le parole dell'Arcivescovo di Cosenza Bisignano Monsignor Francesco Nolè ascoltiamolo E' importante creare una mentalità uno stile di accoglienza e la Chiesa specialmente con Papa Francesco sta dando diciamo un esempio fortissimo di integrazione ma soprattutto direi di accoglienza perché poi l'integrazione viene dopo l'importante è creare questa opportunità di dire non possiamo vivere felici da soli ecco la felicità è partecipare della nostra vita dei nostri beni insieme agli altri Oggi è una società che sembrerebbe non essere solidale verso l'altro in generale pensa che c'è un peggioramento da questo punto di vista? Io farei una distinzione a livello diciamo istituzionale sì se guardiamo i governi europei tendono a chiudersi ma è più una paura diciamo non ragionata invece vedo nella gente nel popolo soprattutto nei ragazzi tanta disponibilità tanta generosità il problema è cominciare a a far a battere quei muri di paura che ci vengono dalla dalla difficoltà di pensare che ci portano malattie e ci portano delinquenza in realtà spesso siamo noi che portiamo la malattia lì le nostre malattie purtroppo occidentali fiorenza e siamo ora allo sport partiamo con il calcio in Lega Pro crescono le preoccupazioni a Reggio Calabria i numeri inanellati dalla formazione Amaranto sono da retrocessione diretta i numeri si sa non mentono non lo fanno soprattutto se applicati allo sport in generale e al calcio in particolare e quelli messi in fila dalla regina sono da retrocessione diretta almeno quelli conquistati nelle ultime quattro partite zero gli Amaranto nel lato quattro capo di fila scivolando dalla zona centrale della graduatoria al terzo ultimo posto nessuno nella girone C di terza serie ha fatto lo stesso neppure il Catanzaro ultimo o il Melfi penultimo quel Melfi che domenica scorsa ha infilato per tre volte la difesa Amaranto portando così a 12 gol subiti nelle ultime quattro partite praticamente tre ogni 90 minuti ma preoccupare i tifosi è anche la sterilità sottoporta la regina non segna da 310 giri d'orologio un'eternità soprattutto per una squadra che fa dei movimenti offensivi la sua prerogativa un crollo verticale che fa della compagine dello stretto la brutta copia di quella vista nelle prime nove gare di campionato non un gruppo spettacolare si intende ma neanche così profondamente in difficoltà una squadra capace di rianimare praticamente tutte le dirette concorrenti per la salvezza quel mantenimento di categoria che ad oggi resta l'unico obiettivo possibile e non più scontato camminando con questo ritmo alle sue buon passo per la CINUS24 conoscenze da serie A poi avrebbero dovuto portare sui tre colli diversi campioncini pronti a farsi le ossa in terza serie a distanza di quattro mesi nulla o quasi di tutto questo si è concretizzato il Catanzaro si ritrova ultimo in classifica e il suo andamento è da retrocessione diretta peggio dello scorso anno molto peggio nessuno in terza serie ha sul libro paga quattro allenatori praticamente uno al mese sul banco degli imputati non può non esserci Antonello Praeti l'uomo che ad agosto si loroò a R qualche giorno dopo promosse il troppo acerbo spader ad ottobre ingaggiò somma per poi virare su Zavettieri è lui che i tifosi già da settimane vorrebbero lontano da Catanzaro al pari di 4-5 giocatori non proprio all'altezza una rivoluzione che la società che paga a carissimo prezzo la fiducia riposta all'ex Parma pare abbia già fatto partire richiamando Carmelo Moro nel ruolo di direttore tecnico una figura forte che fa pensare ad un imminente allontanamento di pareti oppure no che il direttore sportivo oggi sia con le valigie in mano o meno poco importa adesso servono i punti e a gennaio un restyling pesante della rosa Alessio Buompasso per la CINUS24 e guarda al mercato di riparazione mister Zavettieri sentiamolo durante la conferenza stampa di metà settimana valuterò da qui al 29 diciamo tutta tutta la bontà di quello che può essere il lavoro che posso fare da gennaio in avanti la valutazione dei calciatori soprattutto a livello di atteggiamento chi meriterà veramente questa maglia e poi mi sederò col Presidente con il Direttore adesso avete letto c'è anche abbiamo un supporto che ritengo fondamentale come Carmelo Moro e quindi sarà anche lui quindi avremo più occhi per cercare di sbagliare il meno possibile perché vi posso assicurare che il Presidente è vigilissimo non vuole far mancare niente abbiamo unità di intenti col Presidente col Direttore con con Carmelo in questo momento ci stiamo prodigando Alessio Buompasso per la CINUS24 e siamo ora alla palla a volo in A2 femminile Soverato guarda già al prossimo turno mentre Palmi andrà a caccia del bis contro Trento se è vero che il punto debole sono le trasferte è altrettanto vero che al Palascop Soverato dà il meglio di sé le cavallucce marine ripartiranno in casa nel prossimo turno a domicilio arriva Filottrano seconda forza di questo campionato una macchina da guerra che nelle trasferte lascia poco o nulla alle avversarie ma Soverato ha bisogno di un riscatto dopo la sconfitta in Sardegna nella prossima gara Coach Saia ha bisogno di un sestetto renda facilmente e il risultato del turno precedente dimostra che la partita non è stata vinta da Olbia ma persa da Soverato appunto non riuscendo a chiudere prima un match ampiamente dominato nei tre precedenti tra le due compagini il bilancio è a favore delle marchigiane con due vittorie bisogna perciò invertire la marcia umore diverso in casa Palmi la secca vittoria da tre punti conquistata meditatamente al Palasurace contro Cisterna ha ridato fiducia alla squadra di coach Gengrossi che può guardare avanti con occhi diversi attenzione però a non abbassare la guardia bisogna frenare gli entusiasmi nel prossimo turno le Palmesi saranno impegnate nella trasferta contro Trento reduce da una pesante sconfitta Maria Chiara sigillò per l'AC News 24 e questo era il nostro ultimo servizio grazie come sempre per la cortese attenzione a tutti voi un buon proseguimento di serata arrivederci visita il sito www.lacnews24.it oppure scarica l'app sul tuo smartphone o tablet per essere aggiornato 24 ore su 24 7 giorni su 7 sulla Calabria che fa notizia la C News mattina da lunedì a sabato alle ore 7 domenica ore 8 i calabresi sono informati grazie a tutti